Lo che è il ministro del Presidente di Don Buon Punto Il ministro Pape dice su medio ambiente lo che è Toronto non ha detto sono tutti quanti casi guarda, si può puntare un certo in quanti casi, non può puntare un accidente non si può fare qualcosa che faccio la vita non c'era le opinioni la mina per però, finalmente, ha avuto un po' di ciò, sì. Voi come dice che mi ha innanzitutto, ha avuto un po' di ciò per sopra, ora ha avuto un po' di ciò, ma che è così, ha avuto un po' di ciò, ora 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 ha avuto un po' di ciò, ma bello, l'ai avuto un po' di ciò, se c'è un po' di ciò. C'è un po' di ciò, come dice? Se c'è si è un po' di ciò, si fa, ora è proprio qui c'è, la sua cliente va a casa, se c'è un po' di ciò, ora c'è una bimber, quando ciò, quando ciò, che quando ciò, si stacca la more contenta, come? sono nasce un cuore di una mese che si è diventato e che è diventato da minuto potente cuore di pomeriggio cosmi sarebbe il pomeriggio non stessi rivolto a tutti si è parecina potente supporto un e stare con l'incremento che si chiuderebbe un po' di casa ma stare con l'incremento e stare con l'incremento che la primafessa e la fiducia non ci sono una domanda e la pandemia non ci sono la prima volta Grazie.